Direttore, è arrivata la seconda vittoria su due, un'altra vittoria sofferta, come è stata sofferta la vittoria con l'Ancona, però questa squadra ha dimostrato oggi un grande spirito operaio, questo forse è l'aspetto più importante che emerge dalla gara di oggi a Carrara. Sì, hai detto tutto giusto, ma sappiamo benissimo che la Serie C è questa, i ragazzi sono stati bravissimi a cercare in tutte le maniere contro una squadra molto chiusa e non sarà l'ultima volta che capiterà di trovare squadre così che ripartono in contropiede, noi siamo stati bravi a trovare questo gol, faccio complimenti ai ragazzi. Una vittoria importante, direttore, perché questa Carrarese, lo aveva dimostrato anche con il Ponte d'Era, è squadra di valore, squadra di categoria? Certo, i tanti anni che fanno questa categoria, i tanti anni che prendono oltre a giovani bravi anche ai giocatori che insomma la conoscono bene, quindi tutte le partite saranno difficili quest'anno, soprattutto contro di noi, tante squadre si chiederanno e noi dobbiamo essere bravi a riuscire a trovare il gol in qualche maniera. Tra l'altro, direttore, quella di oggi è stata una partita importante, anche perché abbiamo visto il tecnico Auteri cambiare molti giocatori, cambiare anche modulo in corsa, passando nella ripresa al 4-3. Dunque, tutt'altro che integralista, Auteri? No, no, non è normale, a parte sempre con il modulo che gli piace di più, poi se c'è bisogno di cambiare cambia, come ha fatto oggi, ha cambiato i tre giocatori davanti, perché magari c'era caldo, hanno sprecato tanto, abbiamo tanti giocatori, quindi è giusto anche dare spazio ad altri. Direttore, cosa le è piaciuto di più oggi del Pescara e cosa le è piaciuto meno, se c'è qualcosa che insomma avrebbe voluto non vedere? Sicuramente il primo tempo fosse finito tra zero, non sarebbe nulla da dire perché abbiamo creato un po' di palle gol, però sai, come è successo anche l'altra partita, quando non segni la chiudi, dopo puoi andare in difficoltà. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, qualche errore, perché abbiamo fatto delle ripartenze, loro sono venute grazie ai nostri errori e poi invece quello che mi è piaciuto più di tutti è la fame, la fame di questi ragazzi di cercare fino alla fine di trovare la vittoria. Due aspetti importanti, il primo gol di De Marchi che ha sempre giocato in Coppa e in campionato, poi la rete di Memo Shai, un senatore di questa squadra. Sì, sono molto felice per De Marchi che è riuscito a sbloccarsi e poi anche per Memo, un giocatore che dal primo giorno non ha mai saltato in allenamento, tira la carretta in silenzio, sono molto felice perché mi fa molto piacere che abbia fatto questo gol vittoria a lui. È stato molto bello vedere, direttore, al 91esimo l'abbraccio tra la curva, i tifosi arrivati oggi a Carrara, anche il ritardo per via del traffico e la squadra. Si sta pian piano ricreando quell'entusiasmo che chiedeva Auteri, aveva detto il mister proprio al suo arrivo, dobbiamo essere noi a trascinare i tifosi e già oggi si è avuto un primo assaggio di cosa è capace la tifoseria di Pescara. Intanto le ringraziamo perché hanno fatto veramente tanti chilometri per venire a sostenerci, quindi amano questa maglia, ci hanno seguito ed è giusto, al minimo penso che la squadra sia andata a ringraziarli e a salutarli. Come ha detto il mister, dipende tutto da noi, dobbiamo fare risultato per riportare più gente possibile allo stadio e poi penso che anche i nostri tifosi siano felici e orgogliosi di questi ragazzi che veramente danno sempre tutto fino alla fine. Faccio anche a lei la domanda che ho fatto al mister in conferenza stampa, il rigore di Pompetti era lui, è lui il primo rigorista del Pescara? Sì, è lui il primo rigorista, ha tirato e ha sbagliato, i rigori le sbaglia chi le tira, se non lo tirava non lo sbagliava, quindi nulla da dire. L'ultima, direttore, domenica prossima si torna allo stadio adriatico, c'è la Vis Pesaro, campionato che nasconde ogni domenica delle insidie, è un'altra partita alla portata del Pescara, però assolutamente non bisogna sottovalutare nessuno in questo campionato, queste prime due partite di campionato lo hanno confermato? Eh certo, non bisogna sottovalutare nessuno, bisogna cercare di andare in campo, fare la nostra prestazione, cercare di vincere se è possibile, sfruttare meglio le occasioni da gol che ci capitano e verrà la Vis Pesaro e cercheremo di vincere anche questa partita, poi il campo dirà se ci riusciremo o no. E tre giorni dopo ci sarà la partita di Coppa Italia con il Grosseto, la squadra della sua città? Sì ci sarà, ma prima pensiamo alla Vis Pesaro, poi sarà il tempo di pensare al Grosseto.